avete appena ricevuto il vostro stipendio magari avete comunque dei soldi da dover depositare e dovete scegliere un conto beh n26 può essere la scelta giusta per voi ma che cos'è n26 n26 è una carta di debito associata ad un conto con i ban italiano la banca tedesca n26 nasce nel 2013 e al giorno d'oggi conta più di 1500 dipendenti di 7 milioni di utenti e di 800 milioni di dollari in soldi gestiti prima di entrare nel vivo del video però vi chiedo di guardarlo tutto fino alla fine perché vi mostrerò una promozione presente su una delle tipologie di conto a pagamento della quale nessuno sta parlando e che vi permetterà di avere anche un bonus di 50 euro se siete interessati solo a questo però vi lascio qui sotto il minutaggio del video così che possiate schippare ed andare solamente a quell'argomento ora procediamo con ordine dicendo che ogni tipologia di conto n26 è presente in una versione business e non la prima è solamente per i liberi professionisti e di freelance mentre la seconda è per i privati e noi per l'appunto ci focalizzeremo su questa tipologia in particolare n26 standard che è gratuita n26 smart con un canone mensile di 4 euro e 90 n26 u con un canone mensile di 9 euro e 90 e n26 metal con un canone mensile di 16 euro e 90 le differenze dettagliate le trovate sul loro sito io però grosso modo posso dirvi che riguardano principalmente la quantità di prelievi gratuiti che si possono effettuare in una singola giornata in italia e all'estero nella gestione degli spazi per separare i soldi sul vostro conto e vari sconti previsti per acquisti da partner selezionati magari però in futuro potrei fare un video sulle differenze dettagliate ora voglio informarvi di questa promozione inerente al conto n26 smart che vi permette di averlo gratuitamente invece che al costo di 4 euro e 90 ogni mese vi lascio in descrizione il collegamento alla pagina principale del loro sito web ma comunque ora vi spiegherò come poter fare per usufruire di questa offerta tenete conto che ho contattato l'assistenza clienti n26 per potervi illustrare i passaggi passo passo partiamo ora con il dire che dovete prima di tutto essere nuovi clienti io stesso sono un cliente già esistente da più di un anno e per questo non potrò usufruire di questa offerta successivamente effettuare la registrazione con il codice promozionale che vi lascio in sovrimpressione ma che comunque avrete modo di vedere sul loro sito poi avere un deposito di 700 euro almeno 700 euro ogni mese ed effettuare una transazione con la carta fisica sempre ogni mese i soldi possono essere depositati in qualsiasi modo sia tramite bonifico che manualmente purché la transazione sia ovviamente pari o superiore a 700 euro in caso un mese però questo deposito non ci dovesse essere vi verrà debitato il costo del canone mensile ovvero i 4 euro e 90 se il mese dopo tornaste ad avere quel deposito di 700 euro continuerete a non pagare il conto per quel mese e i successivi in caso ci sia sempre questo deposito va specificato però che se non riceveste questo deposito per più di 4 mesi consecutivi perdereste per sempre il diritto ad usufruire di questa offerta se vi ricordate bene però a inizio video vi ho detto che era possibile guadagnare 50 euro da questa promozione infatti una volta effettuata la registrazione ed effettuata una transazione di almeno 20 euro vi verrà accreditato sul vostro conto un bonus di 20 euro questo entro qualche giorno dal pagamento oltre ciò se trasferirete sul vostro conto 700 euro tra il primo novembre del 2021 e il 31 dicembre sempre del 2021 riceverete un ulteriore bonus di 30 euro questo vi sarà sempre accreditato entro qualche giorno i vantaggi di questo conto rispetto a quello base sono molteplici e sono i seguenti prelievi illimitati e gratis in euro da qualsiasi sportello per il conto smart contro i soli 3 gratuiti in euro al giorno del conto standard 10 spazi per risparmiare per il conto smart contro i 3 per risparmiare del conto standard questi spazi sono molto utili perché ad esempio potrete nominarli con un qualsiasi nome ad esempio risparmio e trasferire dal conto principale a questo sottoconto una certa soia ogni quantitativo di tempo magari ogni mese ogni settimana e appunto avere nel vostro conto principale dei sottoconti dove poter gestire i soldi in maniera specifica inoltre avrete spazi condivisi con 10 clienti n26 questa è una funzione solo per lo smart e per le successive anche magari per la you e per la metal ma non per la standard è una funzione che può essere molto carina e utile in caso magari con vostri amici la vostra ragazza o il vostro ragazzo volete creare uno spazio condiviso dove inserire al suo interno dei soldi per magari una vacanza futura da fare insieme poi vi è la funzionalità regole per arrotondare che è presente per il conto smart ma non lo è per il conto standard questa è una funzione molto carina perché vi permette di arrotondare per eccesso un vostro pagamento come ad esempio 2 euro e 70 aver arrotondato a 3 euro e questi 30 centesimi che verranno presi in più saranno inseriti in un'apposita sezione risparmio dove tutti questi centesimi saranno accumulati ovviamente si parla di centesimi non un granché però comunque una funzionalità molto carina sconti e offerte premium su partner selezionati presente sul conto smart in maniera minore anche sul conto standard e poi assistenza telefonica dagli operatori funzione che è presente sul conto smart ma non su quello standard che può essere molto usile in caso ci siano problemi con l'applicazione o comunque con il conto in generale detto ciò il video può terminare qui vi chiedo di lasciare dei commenti in caso di dubbi domande o perplessità di lasciare like iscrivervi al canale e attivare la campanellina per aiutarmi a crescere me ne sarei molto grato ciao a tutti ciao a tutti